Non una prima visione a Monfilm già visto in precedenza. Bene la fase difensiva, male l'attacco. Il Barletta conserva l'imbattibilità della propria porta durante i 90 minuti del lungo Bisenzio. Lo fa grazie ad una buona organizzazione del proprio pacchetto arretrato, ad un paio di interventi decisivi del solito liverani e anche ad un pizzico di fortuna, in particolar modo quando il palo respinge il colpo di testa di Malomo sugli sviluppi di un corne in pieno recupero. Dalla parte opposta invece i biancorossi non sanno incidere. Le occasioni per far male all'avversario non sono tantissime, ma le poche non vengono sfruttate a dovere. Un esempio su tutti, il diagonale debole e fuori misura nel primo tempo di Zigon, ancora a secco di reti con la maglia biancorossa. Ed è così che Prato Barletta finisce in parità e senza gol. Quinta X nelle ultime sette gare per la formazione di Nevi-Orlandi, che ha perso una sola volta nell'ultimo mese e mezzo, ma ha battuto soltanto l'Ascoli nella domenica in cui ha rotto il ghiaccio al Puttilli. Buona nel complesso la prova del collettivo. Il 3-4-3 disegnato dal tecnico dei biancorossi non è dispiaciuto. Bene come al solito liverani, apprezzabile la costanza di rendimento di Derrico, positiva la prova del sedicenne Guglielmi, titolare per la prima volta in trasferta. Da segnalare tra i biancorossi anche il ritorno in campo di Pippa che ha preso il posto di Cascione al rientro dagli spogliatoi. È proprio l'esterno mancino della Barletta ad avere una delle occasioni migliori in attacco, ma la sua conclusione da posizione decentrata termina sull'esterno della rete. Non riesce ad incidere invece Cicerelli, idem Zigon, schierato sempre come principale terminale offensivo, un ruolo a lui non proprio congeniale. Capitolo mercato, nessuna novità ufficiale per il momento in casa Barletta, ma anche pochi, pochissimi rumors. Le strategie societarie quindi si possono solo immaginare. Di sicuro arriverà un centravanti, arriverà un centrocampista. Solo in caso di partenza di Allegretti difficilmente invece verrà preso un difensore dopo i recuperi di Pippa e Romeo e la promozione a titolare di Guglielmi. Continua a vincere infine Lecce che batte 2-0 alla Via del Mare il Benevento e conquista così la quinta affermazione consecutiva. Prattica, sannita, sbrigata nella prima mezz'ora. Ammodio apre i conti al quarto d'ora. Diniz raddoppia poco dopo. Giallorossi sempre terzi in gradatoria, ma non più in compagnia del Catanzaro. Raggiungere la Serie B attraverso la porta principale resta un'impresa difficilissima, ma con questo Lecce forse non impossibile.